Game of Thrones ci ha catturati tutti. Tantissime storie narrate da George Martin però ancora non hanno visto la luce. Una di queste potrebbe diventare una serie HBO come sembrano suggerire alcuni nuovi e affidabili report. Prima di cominciare vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale attivando la campanella degli avvisi per restare sempre aggiornati su tutte le uscite di Every Eye Plus. Non ci siamo detti addio particolarmente bene con Game of Thrones. L'ultima stagione della serie HBO è ormai ritenuta da molti una delusione che ha lasciato i fan con l'amaro in bocca. Ma è inutile girarci attorno, in tantissimi hanno voglia di tornare a Westeros ancora una volta. Lo faremo con la già annunciata e attesissima House of the Dragon ma la HBO a quanto pare ha aggiunto una nuova serie prequel che ci riporterà nell'incredibile mondo partorito dalla penna di George Martin. La serie in questione si chiama Tales of Dunk and Egg, tratta da tre racconti dell'autore delle cronache del ghiaccio e del fuoco che in Italia sono conosciuti con il titolo di Il Cavaliere dei Sette Regni. I libri di Martin non sono direttamente collegati agli eventi narrati in Game of Thrones. La storia è infatti ambientata a 90 anni prima della stessa ribellione dei Baratheon con annessa sconfitta dei Targaryen. Un tempo in cui si narravano le avventure del cavaliere errante Ser Duncan e del suo scudiero Egg, il futuro re Aegon Targaryen V. I fan avevano chiesto a gran voce un adattamento delle vicende di Dunk ed Egg e sembra che la HBO li abbia accontentati. Al momento purtroppo non abbiamo alcun commento da parte dello stesso Martin o dell'emittente Viacavo. Fonti di variety però assicurano che la serie è uno dei progetti più importanti per la compagnia americana. Resta quindi da vedere come si evolverà il progetto ma il materiale narrativo di partenza è davvero ottimo. Non abbiamo comunque ancora la certezza che la serie diventi realtà. Dopotutto anche un altro prequel con protagonista Naomi Watts e incentrato sui figli della foresta era arrivato alla preproduzione del pilota ma poi la HBO ha deciso di cancellarlo. E voi cosa ne pensate? Vedremo le avventure di Dunk ed Egg in tv? Siete fan della loro storia? Ditecelo con un commento qua sotto.